Le patologie ortopediche non riguardano soltanto l'adulto, ma ci sono anche delle problematiche che riguardano i bambini, quindi i pazienti pediatrici. Anche questi argomenti sono stati affrontati durante la 106esima edizione del congresso nazionale della SIOT, gli ortopedici e i traumatologi italiani e noi abbiamo fatto il punto, abbiamo cercato di capire meglio quali sono queste patologie con il professor Pasquale Farsetti, presidente del congresso. Professore, durante questa 106esima edizione di questo congresso nazionale della SIOT si è parlato anche di patologie ortopediche pediatriche, quindi anche l'aspetto pediatrico che risulta molto importante. Quali sono le patologie su cui vi siete focalizzati durante il congresso? Sicuramente il congresso abbraccia una serie di patologie che interessano un po' tutta l'ortopedia e la traumatologia, ma noi come giustamente mi ha chiesto ci siamo anche dedicati alla parte pediatrica, che è una parte, una sottospecialità molto importante e per la quale è importante che i giovani che sono presenti in questo congresso si formino. Noi abbiamo dedicato una serie di sessioni, questa mattina c'è stata una sessione in associazione con l'EPOS, l'EPOS è la società europea di ortopedia mediatrica, dove abbiamo affrontato due temi, le fratture sovranondilodelle dell'omero nei bambini che sono molto frequenti e l'epifisiolisi dell'anca che è una delle tre patologie dell'anca più comuni nei bambini. Poi abbiamo dedicato una sessione a tre letture magistrali su tre argomenti importanti che abbiamo dedicato a patologie particolari e poi abbiamo dedicato ancora una sessione al politraumatizzato, al bambino politraumatizzato, agli aspetti, al trattamento, all'approccio al bambino politraumatizzato. Domani ci sarà ancora una sessione sulle infezioni che rappresentano un problema emergente, emergente nel senso che aumentano nel corso degli anni e soprattutto è sempre più difficile combatterle considerando che i germi che si selezionano sono sempre più complicati da vincere. Partiamo un po' dalle fratture dell'omero che diceva nel bambino, che cosa ci sono, quale novità ci sono e come oggi vengono gestite? Sì, le fratture sovracondriolite dell'omero sono una delle patologie che più frequentemente noi osserviamo nel bambino e sono tipiche dell'età dello scolaro, intorno ai sei anni si manifestano frequentemente. In passato venivano trattate non chirurgicamente, il bambino veniva messo in trazione, poi la frattura veniva ridotta, cioè significa riallineata e applicato un apparecchio gessato, un apparecchio gessato che però coinvolgeva il torace e l'arto superiore interessato. Adesso invece il trattamento è molto differente perché si fa un approccio chirurgico, il bambino viene portato in sala operatoria, la frattura viene riallineata e stabilizzata con dei fili, fili che vengono applicati noi diciamo a cielo chiuso. Sono fratture che generalmente è ovvio che quando esiste uno spostamento si fa questo trattamento, quando invece lo spostamento non c'è, sono fratture composte, è sufficiente immobilizzarle. Professore ha parlato anche di patologie un po' più rare diciamo, problematiche più rare come l'epifisiolisi, cos'è e qual è la novità anche del congresso? L'epifisiolisi dell'anca è una malattia che si manifesta durante l'età preadolescenziale, quindi non nel bambino piccolo ma nel preadolescente ed è caratterizzata da uno scivolamento della testa del femore che si perde i suoi rapporti col collo femorale per cui si crea una deformità. Nelle forme acute in genere si possono ridurre, che significa riallineare e poi trattare chirurgicamente, stabilizzare chirurgicamente. Nelle forme croniche dipende dallo scivolamento, se lo scivolamento è modesto è sufficiente stabilizzarle chirurgicamente, se invece lo scivolamento è più grave e allora bisogna fare degli interventi più complessi. Ok, altre problematiche ci parlava del bambino politraumatizzato. Ecco, bambino politraumatizzato cosa si intende e soprattutto che cosa abbiamo di nuovo? Allora, il bambino politraumatizzato è un bambino che ha un trauma importante e quindi non soltanto un trauma di tipo ortopedico, ma un trauma che può coinvolgere il torace, può coinvolgere l'addome, può coinvolgere quindi gli organi interni, a parte che l'apparato muscolo scheletrico. Quello che è importante è l'approccio, cioè indicare, individuare quali sono gli hub, cioè quali sono gli ospedali in cui questo bambino deve essere condotto e deve essere immediatamente trattato. Quindi selezionare, questo è fondamentale ormai, in tutte le parti d'Italia, gli ospedali di riferimento che sono poi quelli che hanno le capacità e le strutture per poter trattare questo tipo di patologia che non è semplice. Infine, professore, le infezioni. Le infezioni in quali casi, anche qui, come vengono gestite? Allora, l'infezione del bambino non è come l'infezione dell'adulto, nel senso che molte volte le infezioni del bambino, spesso, se precocemente identificate, possono essere trattate mediante una terapia antibiotica e si risolve il problema senza nessuna sequela. Mentre invece, alcune volte, le infezioni diventano subacute oppure croniche, cioè si cronicizzano. Allora, in questo caso, il trattamento può essere anche più complesso e può essere necessario il trattamento chirurgico. Ma tutto questo, ovviamente, deve tener conto che l'infezione la vince la terapia medica. Quindi, non siamo noi ortopedici che alla fine trattiamo questa patologia. Li trattiamo, ormai, con un approccio interdisciplinare insieme agli infettivologi. Infettivologi che, ovviamente, ci indica la terapia antibiotica in base a quello che è il germe che viene selezionato. Purtroppo, non sempre si riesce a selezionare il germe, a volte non si ci riesce e bisogna fare una terapia più empirica. Però, le infezioni sono presenti sempre più frequentemente perché si selezionano, e forse questo è stato anche una colpa un po' nostra di aver abusato della terapia antibiotica, e si selezionano, quindi, dei germi difficili da combattere e difficili da trattare. Grazie a tutti.